Continuano a migliorare i numeri dei contagi a Torre del Greco. Infatti sono solo 3 le persone registrate che hanno sconfitto il Covid-19. Nell'ultime 72 invece sono 3 i positivi certificati. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati con 100 attualmente positivi di cui 10 ospedalizzati. Intanto riguardo la terza dose di vaccino è arrivata la conferma anche dal ministro Roberto Speranza. La terza dose in Italia ci sarà. Partiremo sicuramente già a settembre per le persone che hanno fragilità di natura immunitaria. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, convocato in via d'urgenza, ha approvato all'unanimità l'utilizzo di una dose aggiuntiva di vaccino contro il Covid. La terza dose riguarda soggetti con immunosoppressione grave, quali ad esempio trapiantati, oncologici, dializzati, oltre che gli anziani over 80. Per il personale sanitario invece il richiamo è previsto solo in condizioni di particolare esposizione al rischio. Per le tempistiche il nuovo richiamo dovrebbe essere somministrato almeno 28 giorni dopo la seconda dose per i soggetti con immunodepressi e i trapiantati. Dopo invece almeno sei mesi per le altre categorie. In Lazio le somministrazioni della terza dose di vaccino cominceranno già questa settimana. Ieri infatti il governatore della regione Nicola Zigaretti ha annunciato sui social il Lazio parte con la terza dose di vaccino. Dalla prossima settimana iniziamo con chi ha ricevuto un trapianto e che saranno contattati dal sistema sanitario regionale. Continuiamo a mettere in sicurezza la vita e il futuro.